Siamo al sedicesimo del secondo tempo, c'è un calcio di produzione per la due del verticinistro dell'area di rigore. Sta battendo Di Romano, parte il tiro, gol 6-0 per i quadrini di casa. Da questa inquadratura si vede meglio come il portiere è ingannato dal vero Dio il giocatore non può far nulla.